No, non c'ho io a prendere, non ti prego, no 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 Momenti epici ragazzi, si ragazzi momenti epici Ragazzi oggi sono qui in un video un pochino più strano del solito Per vedere i momenti epici dei video quindi passiamo subito al secondo l'ho ucciso oh mio oh mio no 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 non è una buona idea zio ti ha fatto saltare lì ok ciao zio zio come hai potuto ma perché non prende mai ragazzi oh ragazzi questo video sta tutto contro di me niente brawler niente di niente e dai ma che cavolo quanto fa schifo rosa i picchi ghiacciati ma mente siamo arrivati fin qui wow beh perché non metterli accanto al deserto ovviamente non ha senso ho visto il video io sono Opsidio Maker e oggi siamo su Granny un gioco che è abbastanza vecchio è stato fatto più o meno circa un annetto fa un po' di meno ed è stato aggiornato più volte quindi vorrei giocarci con lui allora iniziamo perché ci sono ah no allora d'orzo e vabbè e vabbè sono rincriolli io dai nemmi existo anche io mi stanno duplando il 500 no 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 non devi venire qui cavolo sono forti ma se mi stanno duplando il 500 come cacchio faccio a venire sono biancina dai corvo non rupe e vabbè e vabbè allora spero che ci voglia dai adesso guardiamo un attimino ecco bene dai stavo scherzando non è per niente male devo dimettere che non è male ragazzi vediamo cosa posso fare cosa posso riuscire a fare no 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 ragazzino ci sto per morire male come ho fatto adesso voglio dimettere cose online ogni giorno come hai potuto spendere così se mi rifanno questa pubblicità non faccio l'auto questo telefono costa solo basta allora io spero che questo video vi sia piaciuto questo video brutto vi sia piaciuto io vi ringrazio la visione ricordo lasciate un mi piace di iscrivervi e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao